Mario Rui in area di rigore, colpo di testa, Raspadori certamente di testa non può far meglio di come può fare invece da lontano con il suo, la gancia molto bene, ancora Raspadori si sta muovendo benissimo Raspadori su tutto il fronte d'attacco, Zelischi ancora Mario Rui, molto più propositivo in fase offensiva rispetto a quello che fa di solito Oliveira, ancora Raspadori, ottimo l'intervento, uno con quello, cross dentro di testa di Lorenzo, Politano che bella azione, che gol, Politano, 27esimo, meritato vantaggio del Napoli con Politano, ma Raspadori ha fatto il fenomeno sulla destra, l'ha costruita, l'ha rimessa sulla sinistra, poi ha crossato e Politano arriva con il sinistro e il Napoli passa in vantaggio, il gesto di Raspadori a Politano, vecchio Moriero Ronaldo, e il Napoli è in vantaggio al 27esimo con Politano, gol importantissimo, 1-0 Napoli, importantissimo, a favore di Ezio Morina, allora, sì, dimmi, dizi, gli dai anche tu 9 a Raspadori? Attenzione, scusate, siamo 4 contro 3, Quaraschelia, in area di rigore, andrà a tirare, lo so che tirerà, lo so che tirerà, lo so che tirerà e farà gol! Goal, Guaraschelia, al 43esimo, Napoli che raddoppia, con Quiccia, Guaraschelia, ne ho sposo, ne ho sposo, c'è tanto attenzione perché Guaraschelia è andato a esultare sotto la curva del Verona, ha fatto il suo gesto d'arciere, Faraoni è andato a protestare, perché ovviamente voleva dire non devi andare a esultare, sono le cose tristi che succedono in questo calcio ormai veramente inaccettabile, va bene. Allora, posso dire una cosa che questo, che questa... ...è stato piegato, nulla di clamorose, ma il suo compito lo fa sempre. Attenzione, giallo, giallo, giallo! Quara, 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 solo uno contro uno con Montipò, arriva Quara, arriva Quara, la finta, la finta, Quara, 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 3-0, pum pum, sotto la curva del Napoli si può fare? Si può fare sotto la curva del Napoli? Sì, è possibile? Lo possiamo fare? Sì, perché sono tre, pum pum pum, Guaraschelia, 3-0 Napoli sotto la curva, è tutto legito, si può fare, si può esultare, Napoli 3, Verona 0. 3-0 del Napoli e questo, se non è un punto esclamativo, poco ci manca sulla partita, eh. E Quara, Schelia... Grazie!